Il tema del GNL è un tema molto interessante perché in questo momento l'attenzione sta sui clima alteranti e sulle emissioni nocive per la società e anche per tutto quello che si muove in ambito urbano e extraurbano. Il contributo che può dare è determinante, specialmente dal mio punto di vista sul trasporto stradale e sul trasporto pesante, perché sicuramente è una tecnologia che va a superare quelle che sono le emissioni del diesel e quindi riducendo l'impatto negativo e dall'altra parte è un'alternativa sicuramente valida, sicuramente industriale, sicuramente subito accessibile per gli operatori rispetto al tutto elettrico che vedo molto differito nel tempo e meno efficace da questo punto di vista. Diciamo che l'importanza è anche quello di avere un mar mediterraneo con delle navi che si muovono anche inquinando meno, sia quando sono a terra, quando sono in qualche modo attraccate, sia durante la navigazione e quindi il GPL ancora una volta, da questo punto di vista, può essere una soluzione utilizzabile.